Ben trovato, sono Grazia Ferrara, se hai seguito i seminari online sul metodo ACPG mi conosci già. Dallo scorso anno infatti il gruppo Aboca insieme al dottor Pierluigi Rossi sta diffondendo un innovativo metodo per il controllo del peso, il metodo ACPG, metodo dell'alimentazione consapevole del picco glicemico. Se vuoi saperne di più sul metodo ACPG ti invito a consultare il sito metodoacpg.it dove puoi trovare tutto ciò che abbiamo realizzato insieme lo scorso anno e tutto quello che realizzeremo durante il 2020. Seminari online, videopillole, articoli scientifici, possibilità di incontrarci e di farci domande quando vuoi. Tutto questo e molto altro verrà realizzato anche quest'anno per permetterti di seguire un'alimentazione consapevole e scegliere cosa mangiare in totale autonomia. Cercheremo di aiutarti a scegliere il cibo più adatto al tuo organismo. Non dovrai seguire diete preimpostate ma solo il tuo organismo. Scegliere un'alimentazione consapevole e tenere sotto controllo il nostro peso infatti non è una scelta estetica ma molto di più, è una scelta di salute. Seguici iscrivendoti al sito metodoacpg.it. Ti aspettiamo!